La sala oggi della Camera del Lavoro di Mantova, la sala Motta, era piena di lavoratori, di delegati, di simpatizzanti, di cittadini che hanno voluto dimostrare così la loro vicinanza alla nostra organizzazione. Un'organizzazione che si è battuta ferocemente per sconfiggere il fascismo. E tutt'oggi noi non possiamo dare assolutamente per assodato che quella conquista sia acquisita per sempre. I fatti di ieri dimostrano che il fascismo è ancora vivo. I gruppi fascisti vanno sciolti, assolutamente. Quello che abbiamo ricevuto è un attacco squadrista, una ferita alla democrazia e alla Costituzione del nostro Paese. È per questo motivo che la CGL, assieme a Cisle Will, ha proclamato per il 16 ottobre una grande manifestazione nazionale contro il fascismo per rivendicare i valori della democrazia. Io invito tutte le persone e le forze che si riconoscono nei valori democratici ad essere presenti, a contattarci in questi giorni e organizzeremo quanti più pullman possibili per essere davvero in tanti a Roma.